Lega Vezzano, riqualificazione case popolari, Tiziano Genovese incontra in quei lini del complesso. DMC Marsic ha riconfermato il presidente d'amico e stato ancora provato il bilancio 2019. Arrestato giovane straniero per stupefacenti, continuano i controlli della polizia nel centro storico del capoluogo. Importante intervento all'ospedale di L'Aquila, riuscita l'operazione di ricostruzione dell'anca a una paziente. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. In primo piano, la politica. Il candidato sindaco della Lega alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovese, ha visitato ieri il complesso di case popolari nella zona nord della città, alla presenza del presidente dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia dell'Aquila, Isidoro Isidori. Nell'insediamento abitativo vivono centinaia di famiglie. Per la prima volta in 40 anni, un presidente dell'Istituto Case Popolari è venuto di persona ad incontrare gli inquilini del popoloso complesso della zona nord di Avezzano, abbandonato da decenni e dichiarato genovesi. Con l'avvocato Isidori, senza enfasi nella massima semplicità, abbiamo annunciato un piano di riqualificazione nell'ambito delle misure dell'eco-bonus sisma avverante dal governo nazionale. Quarant'anni imprenditore e l'avvocato Aquilano hanno quindi ascoltato un folto gruppo di inquilini di fronte alle parazzine. Ringrazio il presidente dell'Ater per la sensibilità mostrata, spiega ancora genovesi, consapevoli della responsabilità che ci assumiamo. Abbiamo annunciato un intervento legato a misure governative che ancora non sono operative, ma sulle quali nutriamo tutti speranza. La Lega ci mette la faccia e non ha timori ad andare a vedere sul campo, soprattutto le problematiche dei più fragili. In questo caso famiglie abbandonate e dimenticate da governi e amministrazioni, conclude il candidato sindaco Tiziano Genovesi. Il commissario provinciale genovesi, candidato appunto sindaco di Avezzano, comunica che Giovanni Lucitti, ex consigliere comunale ad Avezzano, sarà il responsabile marsicano della Lega. Abbiamo ritenuto essenziale costituire l'ufficio politico marsicano per il momento storico e socio-economico che stiamo vivendo, ha dichiarato Genovesi. È indispensabile tornare concretamente tra la gente per intercettare le esigenze del ceto produttivo, quindi dalle partite IVA, delle imprese agricole, dei diedili, degli artigiani, dei commercianti. La Lega, nella persona di Giovanni Lucitti, è in grado di fare tutto ciò. La sua base di partenza è quella di mettere al centro della sua azione politica il benessere della marsica affinché possa tornare competitiva a tutti i livelli, conclude Genovesi. E si è svolta ieri presso la sede di via 20 settembre ad Avezzano un'assemblea aperta e molto partecipata di scritti, simpatizzanti e candidati del PD cittadino. Abbiamo svolto un mese di ascolto e di interlocuzioni, dichiara il segretario provinciale Francesco Piacente. In pochi ci hanno detto che non vogliono avere rapporti con noi, altri hanno riconosciuto che il PD è un valore aggiunto e che nel suo ruolo di partito, di governo, è una forza politica strutturata e solida. Su questo piano ci siamo incontrati con la coalizione civica animata e costruita dall'avvocato Mario Babbo. Con loro abbiamo ufficializzato la costruzione di una coalizione, un patto tra forze politiche e liste civiche per la città. Molti gli interventi dei partecipanti che hanno concentrato le proprie attenzioni sul tema dei servizi e sugli aspetti programmatici. Il trasporto pubblico locale, l'ammodernamento della struttura amministrativa dell'ente, il problema della sanità a partire dalle gravi condizioni in cui verse il pronto soccorso dell'ospedale. E si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede di via Montevelino ad Avezzano l'assemblea dei soci della DMC Marsica che, dopo la dettagliata relazione sulle attività svolte all'unanimità, ha approvato il bilancio per l'anno 2019 e riconfermato Giovanni Demico nella carica di presidente. L'assemblea non ha mancato di esprimere parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dal presidente D'Amico, dal consiglio di amministrazione e da tutta la struttura operativa. Tali attività hanno posto la DMC Marsica tra le primissime DMC abruzzese, riuscendo, pur nella ristrettezza delle risorse provenienti da investimenti pubblici, a svolgere un prezioso lavoro per lo sviluppo del prodotto turistico territoriale nella Marsica, quale è la premessa per che il nostro territorio diventi il soggetto di riferimento del turismo abruzzese. Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da tecnici e imprenditori qualificati che potranno concretamente e ben supportare la realizzazione dei programmi ambiziosi ma concreti che attendono la DMC per i prossimi anni, quindi a partire dalle proposte integrate per la fruizione turistica di Alba e del grande patrimonio archeologico della Marsica, realizzata in convenzione con il contributo della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, che saranno presentati pubblicamente con l'adesione della regione il 24 luglio a Pescara. L'amministrazione comunale di Pescina, con a capo il sindaco Stefano Iulianella, la comunica che nella seduta di ieri del Consiglio Comunale, con l'approvazione del rendiconto di esercizio 2019, sono state messe in campo altre importanti risorse economiche per dare sostegno alle partite IVA del territorio e per dare continuità alle opere di riqualificazione della città. Per far fronte alla grave crisi economica che ha colpito l'economia del territorio, prosegue il primo cittadino di Pescina, infatti abbiamo costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 100.000 euro, per sostenere le micro e piccole imprese ed i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, con la concessione di un bonus unatantum, fondo perduto, fino alla misura massima di Euro 1000. Accanto ai lavori di riqualificazione della piazza Mazzarino di Pescina, in corso di ultimazione, abbiamo inoltre fornito copertura economica per realizzare l'intervento teso al restyling di piazza Battaglione degli Alpini a Venere e dell'intera area del parco giochi sottostante, per un totale di 120.000 euro. Infine sono stati destinati 70.000 euro per il rifacimento anche dei marciapieti di via Umbrone. Nel prossimo giorno verrà pubblicato il relativo bando sul sito istituzionale del comune di Pescina, unitamente alle dichiarazioni sostitutive da compilare per accedere al beneficio. Ed ora la cronaca di agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 24enne cittadino macedone, residente nel capoluogo di regione, per il deletto di illecita cessione di sostanza stupefacente. L'attività di Polizia Giudiziaria si è sviluppata nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio che la questura aquilana ha disposto opportunatamente rafforzati durante i giorni della movida, nel corso dei quali il personale della scodra mobile ha svolto una serie di mirati controlli nel centro storico della città, con particolare attenzione nella zona del castello. In tali contesto, verso le ore 18.30, gli investigatori hanno notato all'interno di un bar presente nel parco del castello la presenza del 24enne, già gravato da pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, che veniva avvicinato da due giovani stranieri con i quali si allontanava nel vicino parco antistante e locale. L'uomo consegnava, dopo averlo estratto dall'interno dei pantaloni, un fazzoletto di carta arrotolato ad uno dei due giovani che lo ha riposto in una scarpa consegnandogli a sua volta del denaro. All'interno del fazzoletto c'erano circa due grammi di marijuana, mentre il pusher nascondeva all'interno degli indumenti intimi un involucro di cellofan contenente altri tre grammi della stessa sostanza. Quest'ultimo, inoltre, è stato trovato in possesso di circa 600 euro, suddiviso in vari tagli, somma comprensiva di quella appena ricevuta dall'acquirente. Il giovane Macedone è stato arrestato e, come disposto dall'autorità giudiziaria, accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari. L'acquirente è un cittadino afgano anche di 24enne, segnalato alla prefettura di L'Aquila quale consumatore di sostanze stupefacenti. E restiamo nell'Aquilano, sempre per la cronaca, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo in flagranza di reato, al quale gli agenti hanno sequestrato 25 grammi di cocaina, suddivisa in 54 dosi, bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. E questo è il risultato di un'operazione compiuta nel quartiere Torrione. Le indagini sono partite grazie all'attività di monitoraggio effettuata dai carabinieri sulle principali piazze di spaccio del capolubogo. La conoscenza delle dinamiche delinquenziali e dei soggetti che vi operano hanno permesso ai militari di focalizzare l'attenzione su un cittadino rumeno incensurato che, oltre ad espletare una normale attività lavorativa, arrotondava lo stipendio mediante lo spazio della cocaina. Le attività di osservazione, epidinamenti e le informazioni acquisite hanno consentito di acquisire oggettivi elementi per ritenere che l'uomo fosse responsabile dell'attività illecita. Le attività ispettive hanno permesso quindi di rivenire e sottoporre e sequestro il considerevole quantitativo di cocaina. Nella giornata di ieri, venerdì, in ossequio alle disposizioni relative a diviete di circolazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, le forze di polizia hanno effettuato sul territorio provinciale 543 controlli personali con 147 attività o esercizi controllati. Il direttore dell'Asla Vezzano Sulmona L'Aquila comunica con soddisfazione che presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila è stato realizzato un importante intervento di ricostruzione dell'anca con tecnologia avanzata in una giovane paziente affetta da infezione di protesi di anca. L'impianto è stato effettuato dal professor Gian Domenico Lagroscino, diretta dal professor Vittorio Calvisi. La paziente è già portatrice di protesi di anca per displasia congenita. Nei giorni scorsi ha lasciato il nosocomio aquilano in stato di completa guarigione. La donna proveniva da fuori regione. La patologia dal 2015 era già stata sottoposta a diversi interventi per un'infezione della protesi senza alcun risultato. La patologia era fortemente disabilitante, avendo comportato la perdita completa della funzionalità articolare. Le conseguenze in termini di perdita di qualità di vita sono facilmente immaginabili. E si è quindi usata una tecnologia estremamente innovativa che permette di ricostruire in 3D impianti protesici su misura necessari in caso di gravi perdite ossee. Con un software dedicato è stato elaborato il progetto dell'impianto definitivo. Chirurghi ortopedici, ingegneri biomedici hanno simulato quindi l'intervento al computer lavorando su forma e dimensione di ogni componente protesica per venire incontro alle caratteristiche anatomiche specifiche della paziente fino a trovare la combinazione ottimale delle componenti con l'osso residuo. E saranno circa 740.000 i turisti italiani che visiteranno l'Abruzzo nel corso di questa estate con una crescita del 15% rispetto al 2019. Si tratta di una delle migliori performance tra le regioni italiane. L'ha annunciato l'assessore al turismo Mauro Febbo e il presidente in Astra Unione Camere Roberto Di Vincenzo che nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede di Pescara della regione Abruzzo hanno illustrato i dati saliente dell'indagine sull'impatto dell'emergenza Covid realizzata da Union Camere l'osservatorio sull'economia del turismo. In Abruzzo il turismo è vivo, riparte con numeri dati soddisfacenti ha detto l'assessore Mauro Febbo. Sono previsti circa 740.000 turisti italiani che visiteranno l'Abruzzo. Un dato confermato anche dagli operatori economici del settore che iniziano a registrare flussi importanti di turisti. Dopo la pandemia, osserva sempre Febbo, la nostra regione sarà scelta soprattutto da turisti provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte e scelgono l'Abruzzo soprattutto per praticare sport. Tosca, l'artista amata per la sua voce, per le sue personalissime interpretazioni, grande protagonista dell'ultimo festival di Sanremo, si esibirà con destinazione Marze Ba ai Cantieri dell'Immaginario all'Aquila, martedì 21 luglio alle ore 21.30 in Piazza Duomo. Sono stata all'Aquila nel 2007 per un concerto in Piazza Duomo. Presentavo il terzo fochista di Chiarato Tosca. Torno dopo 13 anni, l'emozione enorme. In realtà sono tornata più volte, ma in teatro non ho più cantato l'aperto in piazza, in questa città che ha avuto un trascorso onoroseo. Sono felice di tornare e quindi di passare una serata in compagnia di pubblico. Aquilano ha dichiarato l'artista. La Filca Cis di L'Aquila e Provincia si afferma come la prima organizzazione sindacale nel settore dell'edilizia in cassa ed ile. Grazie al precioso lavoro dei nostri operatori sindacali nei cantieri e nelle sede territoriali siamo riusciti a raggiungere questo traguardo importante che ci premia. Così Pietro Di Natale, segretario regionale della Filca Cis descrive il risultato ottenuto dalla sua federazione. Siamo riusciti ad affermarci come la prima organizzazione sindacale del settore dell'edilizia continua Di Natale e ad ottenere dei risultati eccezionali anche nelle aziende dei settori del comparto del legno, del marmo, del cemento e dei prefabbricati. Questo risultato ci permette di elevare la rappresentanza dei nostri associati nei confronti degli imprenditori del settore. L'amministratore delegato di Teis, Alenia Space, Massimo Campurini, ha confermato la conclusione del processo di selezione di 18 dipendenti che saranno in servizio a partire dal prossimo 1 agosto nell'ambito delle attività aziendali di Space Economy. Lo comunica l'assessore alle attività produttive Mauro Feibo che sottolinea come le risorse sono state individuate dopo un percorso di selezione attraverso una o più organizzazione aventi requisiti per tale tipo di servizio non anche attraverso somministrazione diretta con la società Teis, Alenia Space Italia. Tutto ciò per evitare il subappalto come deciso nel bando Space Economy. Sono costantemente informato di tutti i vari passaggi direttamente dell'amministratore delegato di Teis, Alenia Space Italia, Massimo Campurini. Dentro questa settimana, osserva Feibo, tutte le attività saranno completate per consentire la vigenza dei contratti a partire appunto dal 1 agosto anche se operativamente, visto il periodo di ferie, la presenza in azienda potrà avvenire dalla seconda metà di agosto. I conti della Regione Abruzzo sono finalmente tornati in ordine un ente sano e non più fanellino di coda in Italia. Lo dice l'assessore regionale al bilancio Guido Liris dopo l'udienza di parificazione dei rendiconti generali per gli esercizi finanziari 2016-2017 della Regione Abruzzo che si è tenuta dinanzi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Si completa così, dice Liris, un percorso virtuoso che in brevissimo tempo ha consentito di dare nuova solidità ai conti della Regione e di rendere finalmente lente un interlocutore serio e affidabile in primis nel rapporto con la Corte dei Conti e poi anche nel confronto istituzionale. In un anno e mezzo, aggiunge Liris, abbiamo sistemato i conti del 2013, ha approvato la parifica dei rendiconti 2014-2015 in pochi mesi e oggi è stata portata a termine quella per gli anni successivi. Per la parifica del rendiconto 2018, l'udienza è stata fissata al 30 luglio prossimo. Peraltro è molto significativo, conclude Liris, che è già avviato con grande anticipo il percorso per la parifica 2019, visto che il relativo rendiconto per la prima volta nella storia della Regione entro i termini di legge è già nelle mani della Corte dei Conti. Si apre così una stagione nuova per i conti dell'ente fatta di serietà, solidità, affidabilità e certezze. Questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima dei salutino, come sempre, vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano, dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.